Buongiorno a tutti, sono Alessandra Valdereschi e mi occupo di design. Sono qui nel mio studio con una serie di oggetti creati qualche anno fa per il Museo dell'Arte Vetrale Altarese. Il museo mi ha invitato a creare una collezione dedicata loro, a cui è seguita una mostra personale con tutta la mia esperienza con il vetro, tutti i progetti raccolti negli anni con questo materiale. Il museo si sviluppa su tre piani e contiene oggetti meravigliosi, sia della tradizione altarese che oggetti rari provenienti da tutto il mondo. Ma la particolarità di questo museo è che nel giardino è collocata la fornace e i visitatori hanno la possibilità di vedere creare gli oggetti dai maestri vetrali. Ed è stato così anche per me, ho avuto la possibilità di vedere trasformare i miei disegni in oggetti reali. La collezione dedicata a loro si chiama Botanica Fantastica, sono una serie di oggetti d'uso come brocche, centro tavola, eccolo qui, e una serie di bicchieri colorati che prendono ispirazione nei modellini di botanica che si studiano all'università per lo sviluppo dei fiori e ci siamo divertiti moltissimo col maestro vetraio ad abbinare colori stravaganti e a creare appunto accostamenti insoliti. Desidero ringraziare ancora una volta il museo per questa fantastica esperienza, tutto lo staff mando un caro saluto. Ciao a tutti!